Benvenuti a tutti ragazzi, io sono Alex, e io sono Gisius, e io Poccio, per il presento, buona notte, grazie, e oggi siamo sul Kinex Sport, con la mia banana, quindi comincerò io, perché sono un piccolo, e allora io non ci seguiamo, bravo, scusate, 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 attenzione, attenzione, ecco, sono un professionista, Vabbè, però i genzi tradigiano, dove e se vuoi andare in là, non ciò, addio, oddio, oddio, quant'e sono stati, attenzione, E�, io sono fantasci bagus, vabbè, come ho detto, dayn tu di esperienza, o uno del seno, non ho subito, ci abbiamo cercato tantissimo, Allora, attenzione, attenzione, le lucette servono per... per fare un gaffo. Allora, attenzione. Fuck! Allora... Tutta sta concentrazione! E qui mica le piccole? No, va bene. No, è free stop con me qua. Come cazzo? Ok. Ma per rischiere proprio il mio. Sei delicino? Sì. Sono 12, scopo, ci sono 12. 10? Ma non c'è una seconda, c'è? Mi hai fatto il buco, eh? Mi hai fatto il buco, eh? Mi hai fatto arrabbiare, certo? Sì, 10 o 12? Mi hai fatto dire il tuo buco. Mi hai fatto dire il tuo buco, eh? No, sono 10. Tieni la banana. Non c'è. Devi metterti la mano in testa. Mi hai fatto dire il tuo buco. Mi hai fatto dire il tuo buco, eh? Sì. Ragazzi, voi... Non lo so. Che tiro di merda! È un ruolo. No, un ruolo di sponda. Tutti di sponda. Come vai? Non mi sbaglio. Tension. Tension free! Ehi! 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 Guardate il polso che è... Perché ti sta trovando il testo? No, perché... Guardate che sta fanno! Mia mamma è un po' confinata. Ma te l'ho detto? Ci mi avete scritto qui su la barra. Guarda che si fa strike. Ehi! Ehi! La mia mamma è fatta! Qui! Ma che c'è... 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 No, dovevi fare... A schiacciare. Che schifo! Però hai fatto sempre... Ma che c'è... Tu! Tu! Quello lì è mio dondo, vedi? Quella è la volta. È mio dondo! Sì! Oh, dondo! Guardami! Oh, dondo! Guardami! Oh, dondo! Che Robinson qu'èà... ...un dic' il fatto è molto buono. Av everyone tiene macb Development! Guardami con successno... Il Ducang si da dei giochi! Tato con la banna! Sosamente è fett rec caricato... non ho detto fatte la mia palla guarda che cosa fai cioè è così o fa manca questo attenzione il pocho perché hai tirato di qua e allora avanti mancano 4 milini per il pocho non spare non spare ma non bisogna spare guarda guarda questo strike oh oh cosa aveva fatto la vedevo già nella canalina cosa aveva fatto spirit non potrei mai dire spirit vuol dire che tutti lo riprendono magari si è broma ma non si è stato ma non si è stato a sinistra è 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 allora vai 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 Ok, mi sono campione, mi riconoscete? Ciao Ciao a tutti Tu noto che non mi saluti La pagherai dopo, non lo facciamo i conti E tu con la mano gigante rossa Te la picco in quel posto E nonno, visto che non mi saluti Mi devi dare la mancia a tutti Quindi, adesso Attenzione, attenzione, attenzione Un pirillo, un pirillo Guarda la, guarda la, guarda la E' bello Ovviamente Cocco bello Ripondolo, sempre verde D'assoluto, cocco bello Tassos 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 Attack as Nooo, sbagliato! Sono ancora pesante da noi! Stai avendo la mia videocamera! Ancora lì! Allora, se questa volta non vai... Sparco tutto! Ok, sparco tutto! No, non ho spagato niente! Si posa la testa di qualcuno! Si? Sparco tutto! Guarda! Sono piccamente l'antidio! Va bene! Dino! Ehi! Ehi! Basta, io mi tiro di provare il potere dell'aragnate! E lei ha voluto il potere del bar qua qua qua! Si provo a mi tirarlo giusto! Perché tocca ancora te sei fatto sta mic! Eh, ma c'è il risultante! Ah, io ultimo! Ma non te lo! L'ultimo ne fai due! Nooo! Ma andate giù! Adesso è qui in segno! Perché quando ne paro? Che! Il giorno è ricordato! Io ho battuto quello che si definiva il campio! Ok ragazzi, se il video è piaciuto lasciate un commento! Mettete un mi piace! E infilmedetevi al canale! Bene ragazzi! Io faccio così neanche... Cos'è? Cos'è quella cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Cos'è un doom buggy ultramodile? Per usare! Oh! 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 Dove non mi prendere YEAH!! E noi seppri solo! io posso non mi prendere mai le sermoni delle persone con radicelli del potere e da anche profondizialmente! Noncola! Cosa credibile! io non ti prende maied